sono camilla 13 ottobre 74 sono nata dall'inizio alla mia storia è proseguita in varie zone del mondo per cui diciamo che ci sono dei momenti della vita l'india è stato ed è oggi per me la seconda casa ho passato lì on and off i primi dieci anni della mia vita vivere in una comunità negli anni 70 figlia di ipi di londra ricordo una vita molto rock and roll erano gli anni 90 quindi mtv di la carriera ricordo una estrema normalità ad andare a cena con i prodigi o aprirsi un succo di pomodoro con robbie williams da lì è iniziata un po la vita da adulta di new york o un ricordo di grande scoperta una grandissima apertura un incontro di culture grandissimo senso di libertà questo tra l'altro quello che ti dà anche la grande mela e continua a dartelo il viaggio per me è vita non c'è vita senza viaggio per me perché non c'è conoscenza senza viaggio sono realizzata perché sono felice con la persona con la donna che sono diventata ma non mi sento arrivata perché non c'è un punto d'arrivo io penso che le donne siano oltre quasi geneticamente e sono convinta che questo mondo senza gli uomini non sarebbe così affascinante così curioso e così diverso la donna deve essere oltre credo che sia una questione di requisiti per la sopravvivenza perché non abbiamo e non possiamo permetterci il lusso di fermare l'evoluzione